Una questione controversa e per niente chiara è quella che riguarda via Vittorio Alfieri a Campobasso nel quartiere Vazieri, una strada dove negli anni 70-80 ci fu una nutrita opera edilizia da parte di alcune cooperative e che successivamente vide l'intervento della pubblica amministrazione per l'illuminazione, le fogne, il manto stradale e i passaggi che collegano la strada residenziale con via Le Manzoni. Diversi episodi accaduti di recente hanno poi portato gli abitanti della zona a scoprire che la strada dove abitano, per anni creduta pubblica, visti anche i diversi interventi del comune, risulta essere ancora accatastata come privata e appartenente alle cooperative che circa 40 anni fa costruirono i palazzi. Noi ci troviamo a vivere purtroppo una situazione anomala, atipica, che è quella delle aree non definite, che sicuramente è comune anche ad altre aree e altri quartieri della città. L'area è questa dove noi ci troviamo che di fatto è di uso pubblico ma dal comune ritenuta di proprietà della cooperativa Condor. Qui proprio su questa area il comune ha realizzato moltissime opere pubbliche di utilizzo pubblico per cui noi non ci riteniamo responsabili di questo tratto di strada in quanto di fatto appartiene al comune. Incredulità, sconcerto e preoccupazione per gli abitanti della zona che in alcuni casi non possono neanche intervenire per quanto riguarda il taglio dell'erba, la pulizia delle aiuole. Con le carte alla mano il comune non ha mai una risposta certa. Noi quello che vogliamo è da parte di questo end la definizione una volta per tutte di quest'area. Una definizione però che sia anche supportata da un atto amministrativo in cui si dice di chi è quest'area o di chi non è quest'area. Perché se l'area è la nostra allora vuol dire che noi la chiudiamo. Se l'area invece del comune allora il comune poi la deve mantenere con il giusto peso che si ha un'area verde, ha un'area pubblica perché è consentito l'accesso a tutti. Su queste due rambe di scale ci passano tutti, tutti gli studenti universitari che si regolano alla facoltà di giurisprudenza, ci passano tutti i bambini che la mattina e il pomeriggio quando escono da via Leopardi vanno a scuola con chi li accompagna. Quindi noi vogliamo una massima chiarezza.